Il mercato immobiliare in provincia di Varese torna a essere vivace ed evidenzia eccellenze interessanti a favore dei consumatori, delle agenzie immobiliari professionali e dei loro clienti. E' ciò che emerge dall'ultima edizione della rilevazione prezzi degli immobili, che offre uno sguardo sui valori medi delle abitazioni nei 138 comuni della provincia di Varese, uno studio coordinato da Camera di Commercio Varese con il contributo attivo delle associazioni di categoria del mondo immobiliare, tra le quali la FIAIP, Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali. A questo proposito abbiamo raccolto il parere autorevole del Presidente di Camera di Commercio Varese Fabio Lunghi e del Presidente del Collegio FIAIP Varese Riccardo Ortiz. Oggi abbiamo presentato la nuova edizione della rilevazione del prezzi degli immobili, che è un volume di estrema importanza, portato avanti da Camera di Commercio insieme ad Anama, FIAIP e FIMA con la collaborazione di Ance e dell'Ordine degli Architetti e dell'Ordine Geometri, perché è importante, perché è un volume unitario, edito da Camera di Commercio con la partecipazione di tutte le associazioni, quindi diventa un punto di riferimento per un mercato che è in crescita, abbiamo visto che il nostro territorio comincia a avere parecchie richieste, perché sia se guardiamo alla metropoli milanese che al confine svizzero è un territorio molto più conveniente, dove ci sono molto più spazi, dove è bello vivere, dove si può praticare sport e si è comunque collegati con entrambe le destinazioni. È un territorio anche dove c'è moltissime imprese e manifattura, quindi non dimentichiamoci che le richieste di mano d'opera ci sono anche qui e quindi le persone stanno tornando a investire, stanno tornando gli investitori, quindi siamo ottimisti. Anche il milanese sta tornando a guardare alla provincia di Varese come una zona di quasi villeggiatura, questo ci fa molto ben sperato. Buongiorno a tutti, siamo qui alla presentazione della rilevazione prezzi, non mi soffermo tanto sui dati contenuti perché avrete la possibilità di vederla, siccome è in giro la pubblicazione ma è reperibile anche in internet. Vorrei invece ringraziare tutti gli agenti immobiliari associati al nostro collegio provinciale che ci hanno dato una grande mano per poter raccogliere i dati e per poter portare e valorizzare anche quello che è l'intervento della nostra associazione in questo tavolo di lavoro con tutti gli altri rappresentanti di categoria sia gli altri agenti immobiliari ma anche gli ordini professionali tipo gli ingegneri, gli architetti, i geometri, la Camera di Commercio stessa piuttosto che il Comune e l'Agenzia delle Entrate. Perciò un sentito ringraziamento a tutti gli associati, il mercato immobiliare voi che operate attivamente avete constatato di persona che è un mercato che fino adesso è stato molto positivo per il numero delle transazioni avvenute nel nostro territorio e siamo fiduciosi che possa continuare con la sempre maggiore professionalità e esperienza di tutti gli agenti immobiliari in generale ma soprattutto i nostri associati FIAIP di Varese. Grazie a tutti!